Social Trend, le news a portata di Hashtag con Matteo Acitelli ed Esmeralda Moretti. Buonasera a tutti e benvenuti a Social Trend, questa sera qui a Radio Roma, Matteo Acitelli e Esmeralda Moretti. Questa sera, Esmeralda, parliamo un po' di politica. Ci distacchiamo un po' dei social, ma non troppo, perché vedremo che poi, come al solito, la politica si scatena e si rivolge anche tantissimo ai social. Le reazioni da parte del web sono sempre tantissime. In particolare, da qualche settimana si sta parlando tantissimo di inglesismi. Perché? Perché, come sappiamo, la nostra lingua, l'italiano, ormai da anni complici anche appunto i social, la comunicazione online, il globalismo, eccetera, eccetera, ci siamo ritrovati ad utilizzare ormai nella quotidianità, quindi senza neanche darci troppo peso, tantissimi termini che chiaramente non sono termini italiani, ma che ormai usiamo come fossero appunto parte della nostra lingua. Però, tuttavia, nelle ultime ore qualcosa sta succedendo. In rete, se vi è capitato anche di utilizzare i TikTok, Instagram, in questi giorni avrete visto tantissimi video anche divertenti, molto simpatici, di creator e utenti tradizionali, comuni, che appunto un po' scherzano su questa proposta di legge. Cioè, cosa è successo? È successo che Fabio Rampelli, un esponente di Fratelli d'Italia, nonché vicepresidente della Camera, a fine 2022 ha fatto un po' discutere in Parlamento. Perché? Perché ha chiesto di limitare l'utilizzo di inglesismi all'interno, soprattutto, della classe politica, quindi proposte di legge senza termini inglesi, eccetera, eccetera. Una notizia che ha preso di punta anche la stampa, che nell'ultima settimana appunto ha pubblicato tantissimi articoli a riguardo, perché, secondo appunto quanto si legge in questa proposta che ha mosso appunto l'onorevole Rampelli, c'è la volontà di dare, fare multe fino a 100.000 euro per chi appunto utilizza inglesismi. Ma così, proprio di principio poi a me ha fatto ridere. Cioè, cosa cambia? Io non ho capito. È proprio una cosa di principio, fine. Sì, diciamo che Rampelli è un grande sostenitore della lingua italiana, è molto nemico soprattutto dell'inglese e degli inglesismi, e già da tempo in realtà si è fatto sentire in varie occasioni con anche alcuni video che adesso vi mostreremo per appunto sottolineare il fatto che usiamo spesso dei termini inglesi quando ne abbiamo in abbondanza anche gli italiani e lui predilige questi. Vi facciamo vedere subito questo breve video che lo vede coinvolto alla camera dove appunto sottolinea l'importanza dei termini italiani a rispetto di quelli inglesi. Ascoltate. Invito i deputati a sanificare le mani utilizzando gli appositi dispenser prima di ricevere la scheda di votazione a prelevare una matita dall'apposito contenitore posto all'entrata della cabina e a riporla nel contenitore sito all'uscita della cabina. Per dispenser si intende dispensatore. Invito i deputati segretari a procedere alla prima chiara. Ecco, per dispenser si intende dispensatore, quindi proprio per farti sottolineare l'attenzione di questo uomo nei confronti della lingua italiana Ma è pazzo! Cioè nel senso io ci sto, va bene, far notare che ci sono tante parole italiane che vanno bene però comunque sì è anche un segno del fatto che studiamo tante lingue, cioè usiamo tante espressioni, tanto inglese quanto francesi, spagnole o sbaglio cioè mi sembra una cosa ormai normale Sì, no, devo dire come appunto dicevamo prima, ormai siamo in un mondo che non ha più proprio dei confini No, infatti! Cioè si viaggia spesso, si è in contatto con persone di tutto il mondo, in continuazione tramite i social, tramite... Quindi tutto questo limitarci e bloccarci, chiuderci nella nostra piccola Italia Forse ogni tanto è un po' eccessivo, anche in questo caso appunto finché si usano termini e comunque vengono ormai compresi da tutti non vedo dov'è il problema di usare, non so Sì, ma anche perché cioè dovremmo bandire tipo tutti i trapper della scena italiana, cioè non so, metà musica non esisterebbe più Sì, lui vorrebbe partire intanto per quanto riguarda il mercato legato proprio alla, diciamo alla pubblica amministrazione quindi non so, proposte di legge senza termini inglesi eccetera eccetera per poi piano piano secondo me espanderlo anche in altri ambiti, anche se ripeto non ne vedo proprio troppo il motivo valido ecco, comunque questo tweet, questo video che è stato estratto da un tweet proprio di Rampelli che a fine 2022 se ne esce con questa scritta in cui appunto invita tutti a parlare italiano quindi prosegue la battaglia sull'utilizzo della nostra lingua al posto dell'inglese non si capisce perché il dispensatore di liquido igienizzante per le mani debba essere chiamato dispenser quindi questo dispenser devo dire l'ha molto scosso comunque ho scoperto un po' analizzando meglio la situazione che in realtà l'Italia non sarebbe il primo paese che sta cercando di limitare un po' l'utilizzo di parole appunto anglicismi anglicismi o inglesismi perché a quanto pare anche in Francia e in Spagna sembra che si stiano iniziando a prendere provvedimenti per limitare l'utilizzo di questi termini all'interno della Costituzione e delle varie leggi che vengono emanate dai vari parlamentari ma non sto capendo e a quanto pare vogliono cercare di tutelare la propria lingua d'origine perché a quanto pare appunto negli ultimi vent'anni il numero di anglicismi è aumentato davvero tantissimo secondo una statistica si parla del 773% negli ultimi vent'anni quindi 9.000 parole che non sono italiane sul dizionario che contiene circa 800 parole quindi voglio dire è una proporzione davvero importante che sembra stia facendo preoccupare anche la politica non so se ripeto la preoccupazione in qualche modo possa essere confermata se c'è effettivamente un motivo per cui ci si debba così tanto diciamo allarmare sull'utilizzo di tutte queste terminologie però ripeto a quanto pare la politica si sta attivando molto e a riguardo come anticipavamo chiaramente sul web sono esplosi tantissimi video più o meno divertenti ma facciamo subito un primo assaggino con il milanese imbruttito che ormai conoscerete tutti in rete pubblica spesso video che vedono appunto questo uomo d'affari milanese che molto spesso si sa a Milano si usano inglesismi ovunque ovunque cioè se tu vai in metro a Milano sembra che parlano un mix tra italiano e inglese perché c'è la call poi tutti i termini ASAP di bruno ma sentite il milanese imbruttito che vi dà subito un'idea di quello che avviene a Milano Ciao grande, senti dobbiamo risettare un attimo il budget ho finito il debrief col cliente adesso ti share l'inside la value proposition del brand è buona quindi dobbiamo impostare la mission reworkare il naming e ci siamo se mi dai degli slot per schedulare una call next week eh? aspetta, come? non si può più parlare inglese, eh? ce l'ho avuto, fino a 100k però, vabbè, quindi non posso più utilizzare inglesismi a cazzo perché va bene, ok, ci provo eh, allora risetta tu, cioè riparti da zero dobbiamo rivedere il budget non si può dire, come cazzo si dice budget in italiano, fega il cash, ma no, anche in questo inglese ma vaffan sto male, aiuto come vedi effettivamente lui magari un po' estremizza la situazione ma devo dire a Milano effettivamente moltissime agenzie o comunque persone legate a vari business parlano moltissimo con questi inglesismi forse non so, lì forse è veramente sfuggita un po' la situazione di Milano nel senso forse si tende un po' a esagerare perché veramente io capisco voler essere internazionale a tutti usare qualche termine inglese che ci sta però magari nei limiti diciamo sì, nel senso è chiaro che il mouse del computer lo chiamiamo tutti mouse non lo chiameremo mai topo immagino però voglio dire su alcune volte ecco, quando dici Mari next week settimana prossima infatti voglio dire, ecco capisco per il buon weekend però non so, secondo me ogni tanto sì, diciamo che lì forse la mano è forzata al contrario cioè perché fa figo usare termini inglesi quindi insomma quindi vedremo come evolverà questa legge nell'attesa di scoprire quali altre evoluzioni subirà questa idea dell'onorevole Rampelli vi facciamo vedere un altro video sempre da TikTok molto simpatico che è di Giorgio Vanni Giorgio Vanni per chi non lo conoscesse è un noto cantante di tante sigle dei cartoni animati mi viene in mente Dragon Ball piuttosto che Yu-Gi-Oh quindi voglio dire è un nome che Mari non vi dice molto ma in realtà ha fatto tantissime canzoni che tutti noi o comunque più giovani sicuramente conoscono che dopo aver letto appunto la notizia di questo possibile limite nell'utilizzo degli inglesismi e queste appunto assurde multe fino a 100.000 euro per l'utilizzo di termini in inglese ha pensato di ricreare le sue canzoni utilizzando solo termini italiani funzionerà? ascoltiamo da 5.000 a 100.000 euro per coloro che non sono termini in inglese devi prenderli tutti prendili tutti tutti i mostri tascabili mostri tascabili sfera del drago il rompere tra le nuvole sfera del drago combatti sul terreno sfera del drago Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh questo è il tuo nome Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh gioca la partita Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh vai avanti sfera del drago G-T è per te per me in un mondo che vuol veramente essere libero libero tutti quanti prendi e vai prendi e vai prendi e vai pronti per senza prendi e vai prendi e vai prendi e vai no 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 questo no finale sembra che ci dà subito un'idea che appunto forse non è proprio così semplice utilizzare solo l'italiano nelle nostre attività quotidiane ma perché sai cosa subentrano anche dei concetti che sono nati con una determinata tradizione cioè a me non verrebbe mai da dire a settimana prossima devo fare una videochiamata importante devo fare una call ecco anche vedi esatto anche il termine ormai effettivamente è entrato proprio nella nostra lingua ma tu usi videochiamata no 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 ma perché videochiamata la uso se devo chiamare nonna facciamo la videochiamata ma non è una call cioè c'è proprio un valore anche concettuale differente sì sì no ma veramente ormai ripeto sono termini che usiamo talmente con semplicità e veramente sono parte della nostra lingua devo dire non so quanto sarebbe secondo me difficile proprio fare il contrario ovvero dire da domani non si usano secondo me non ce ne accorgiamo ma diciamo facciamo il brainstorming cos'è un brainstorming in italiano cioè come lo traduci eh no è vero è vero si suggeriscono dalla regia come lo traduce la regia ah che no esatto non trovano spiegazioni di come si possa tradurre cioè ricerca di idee brain eh sì esatto non so come si può tradurre non penso che si possa tradurre in realtà perché è un concetto che qui mettiamo insieme le idee vuol dire tipo mettiamo insieme sì 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 mettiamo insieme le idee e cerchiamo di capire insieme però non ha quella potenza concettuale che tutti intuiscono perché si ricollega immediatamente a quella cosa lì a questo punto direi lanciamo la pubblicità stavo cercando un termine in inglesismo per dire see you later see you later a tra poco sempre qui su social trend torniamo a parlare di questo argomento vi mostreremo una serie di video molto molto divertenti che veramente in questi giorni stanno impazzando su su tiktok perché questa situazione sta sfuggendo un po' di mano anche a tanti creator che stanno sfruttando la scia di questa notizia per creare dei video molto simpatici bye 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 good evening welcome back questa sera ci sentiamo un po' inglesi perché appunto nella prima parte di social trend questa sera Matteo Citelli e Esmeralda Moretti vi stanno illustrando questa proposta di legge dell'onorevole Rampelli che appunto sta facendo discutere non poco perché cosa ha annunciato Rampelli per chi non ci assieme nella prima parte c'è questa nuova proposta di legge del vice presidente della camera esponente di Fratelli d'Italia che vorrebbe bandire l'utilizzo di inglesismi all'interno della politica e non solo quindi la sua proposta è quella di appunto vietare l'utilizzo di termini che oggi fanno parte comunque del nostro uso quotidiano ma che comunque non sono parte della lingua italiana per cercare appunto di non perdere diciamo dei termini italiani che spesso sono tradotti con l'utilizzo di termini inglesi addirittura c'è questa proposta di istituire una legge con multe fino a 100.000 euro per chi appunto utilizza questi termini che vorrebbero venire vietati abbiamo visto io non ci posso credere che abbiamo delle robe importanti di cui parlare tipo leggi da fare malattie che non sono tutelate dallo stato di subalimentari e in realtà in parlamento parlano di mettere le leggi per chi parla in inglese tra l'altro appunto è una cioè fa troppo ridere non è sembra una barzelletta solo in Italia queste cose a questo livello è un'iniziativa che è stata presentata a fine 2022 ma che è tornata molto in voga solo nelle ultime ore perché a quanto pare la notizia ora sta tornando alla ribalta dopo che tanti creator l'hanno presa diciamo sul serio anche se al momento è solo una proposta proprio perché ci sono queste sanzioni fino a 100.000 euro che stanno facendo un po' cioè hanno gli acceso il fuoco su questa notizia e abbiamo già visto nella prima parte una serie di content creator che hanno iniziato a pubblicare su tiktok su instagram una serie di video molto simpatici sulla vicenda a riguardo vi facciamo vedere anche un altro content creator che dopo aver appreso della notizia ha deciso di scherzarsi scherzarci su in questo modo guardiamo come buongiorno ragazzi cosa bevete per me è un latte tremare alla nocciola grazie che code di caccia avete allora abbiamo il mario insanguinato un muro di mosca stesso sulla spiaggia o in isola lunga amo sopra guarda prendo il muro di mosca comunque ieri sono andata a fare un sacco di comprando in questo fuori per mettere c'era l'80% di sconto ho preso dei jeans fidanzato che ti giuro ah scusa pronto? e basta è sempre il vento che mi chiama devo cambiare operatore non li sopporto più è effettivamente è sempre il vento che mi chiama è carino immaginarci un'italia senza termini in inglese effettivamente molte cose non riusciremo a farle ma anche se ecco se sti brand che hanno questi nomi inglesi non potremmo citarli mi viene in mente facebook faccia da libro non so come lo potremmo tradurre al meglio quindi ecco è molto divertente ed effettivamente questa declinazione poi l'hanno ci hanno scherzato veramente tantissime persone facciamo vedere subito un altro video questa volta di un'azienda che si occupa di software quindi immagina di dentro un'azienda di software tutti questi nerd che di muto in bianco scoprono di questa notizia quindi vediamo da domani gli inglesismi immagina cosa possa succedere al suo interno ve lo mostriamo Fabri scusa ma qua dice che devi accettare tutti i biscottini tu li hai accettati i biscottini ragazzi qui c'è un cliente che vuole aumentare il pacchetto nuvola ci pensate voi? oh ma chi ha preso il mio topo? figli della rete buongiorno come posso aiutarla? condividete il nostro video e non dimenticatevi di etichettarci nelle vostre storie non mi funziona più lo schermo sensibile al tocco del telefono intelligente cioè ti immagino anche banalmente sui social si può dire sui sociali come diventa? sui gruppi sociali sulle pagine sociali no diciamo che sarebbe veramente incredibile pensare e come si dice social? non lo so sociali so che brutto gruppi sociali no network social no network nemmeno si può usare quindi non so come diventerebbe sul virtuale non ne ho idea comunità comunità ci suggeriscono comunità virtuali vi aspetto sulla mia pagina della comunità virtuale mamma mia si diventerebbe veramente tutto molto inascoltabile si no ma poi veramente immagini cioè immagini è differente cioè se solo l'italia applicherebbe questa legge no? cioè tutto il mondo va avanti comunque con l'utilizzo di questa lingua ormai comune a tutti social network eccetera eccetera noi dovremmo cambiare il nome e il programma Matte ah mazza noi siamo veramente contro la legge social trend cioè ci fanno 8 milioni di euro di multa cioè ci cacciano mi sa che dobbiamo iniziare ad avvisare l'editore che qua qualcosa potrebbe muoversi ma effettivamente proprio a riguardo di social e social trend vi faccio sentire come potrebbe parlare un social media manager se questa legge dovesse entrare in vigore in Italia vediamo sì ciao sono il gestore dei canali di comunicazione sociali ci siamo contrassegnati ieri nell'annuncio esatto io ho appena sentito il reparto di mercatologia dopo sai l'ultima attività di remarchiata che hanno appena fatto no 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 così su faccialibro non concludiamo nulla no ma infatti non so se hai sentito il cinguettio di Elon Musk di Elon Musk scusa no io gli avrei chiuso il telefono intelligente in faccia una certa io devo andare fammi sapere se poi accettano dai il budget dai il budget il budget dai veramente voglio dire comunque ne approfittiamo per ricordarvi che trovate Radio Roma anche su faccialibro ah è vero anche su faccialibro radio si può usare Roma si può usare beh allora siamo abbastanza in regola a parte social trend che veramente verrà bandito verrà bandito sarebbe tendenza sociale tendenze sociali che non è male non è brutto magari ci scriviamo il libro lo chiamiamo tendenze sociali si sa di colto poi aprono e ci siamo noi invece a fare le che siamo late non penso che ci scopirebbero subito però ecco immaginiamo adesso di vedere questa legge applicata all'interno di una coppia quindi all'interno della casa cosa può succedere vediamo ce l'ha il disco duro perché volevo modificare le nostre foto con fotonegozio ma va bene per il macco o va solo con finestre bella questa canzone di Milena Ciro finisco di mettermi l'allineatore di occhi e arrivo allora come stai? eh mi sa che ho preso un agente patogeno infettivo guarda che virus è latino guarda che virus è latino eh no guarda potrebbe veramente essere una cosa molto divertente ci stanno scherzando sopra tantissimo però nel frattempo oltre a tanti scherzi e appunto video molto simpatici che stanno venendo fuori dalla rete qualcuno ha scoperto che il governo in caso in cui questa legge venisse applicata è il primo a non rispettarla perché guardate questo dente di tweet toc che cosa ha scoperto di tweet toc e poi sentito una nuova trovata del governo multare chi utilizza inglesismi specialmente nella pubblica amministrazione la cosa buffa è che un ministero creato da loro si chiama ministero delle imprese e del made in italy quindi i dipendenti pubblici di questo ministero dovranno omettere da qualsiasi riunione o documento l'inglesismo made in italy sarebbe veramente assurdo talmente assurdo che neanche loro se ne sono resi conto ecco come vedi anche il ministero dovrà in qualche modo regolarsi regolamentarsi perché usano anche loro il termine made in italy che credo verrà bannato a questo punto mamma mia guarda Esmeralda al momento ripeto è solo una proposta di legge che dubito possa entrare poi in vigore perché comprendo la voglia magari di limitare l'utilizzo di questi termini probabilmente si potrà applicare questa regola per la legge per la costituzione quindi ecco potrebbe venire introdotto questa regola per cui le prossime leggi dovranno utilizzare comunque dei termini italiani che comunque poi a livello di utilizzo quotidiano cambierebbero poco certo non intaccano nelle persone di ogni giorno che fanno magari lavori che non possono prescindere da determinate terminologie finché magari si utilizza questo limite nella costituzione forse ci può anche stare nel senso tanto non avrebbero i percussioni nella vita di nessuno nella quotidianità ma è chiaro che se poi questa notizia questa novità venisse applicata anche appunto nel linguaggio comune sicuramente poi come abbiamo visto anche in questi video molto simpatici però si effettivamente vanno a sottolineare una realtà dei fatti oggi non potremmo fare a meno di tanti termini che ripetiamo fanno parte della nostra quotidianità tuttavia anche nelle ultime ore questo argomento è finito anche sulla 7 all'interno di propaganda live dove il bravissimo Alessio Marzilli cosa ha fatto è riuscito a fare un video molto simpatico che ora vi mostriamo proprio con l'onorevole Rampelli guardate cosa è successo oggi siamo qui con il vicepresidente della camera Rampelli per proporvi una cosa eccezionale utile e decisiva un oggetto innovativo e di vitale importanza ed è utile all'Italia il nuovo salva la lingua Rampelli un oggetto importante per un nome altrettanto importante come mai lo chiama così lo chiamo così perché mi piace essere rubido siete in giro siete al lavoro può essere che siete un evento importante non lo so possono essersi i campioni del mondo di calcio o il giubilato del 2025 o eventualmente accadesse l'expo del 2030 esatto ovunque vi troviate un malintenzionato inizia a utilizzare termini in inglese il dispositivo riconosce questi termini emette un segnale avverte le forze dell'ordine che arrivano e procedono con la multa e l'arresto tutto questo perché l'utilizzo della lingua inglese deve finire deve finire ma adesso tocca a voi solo per oggi prezzo lancio di 39,90 euro il primo che chiama lo riceverà a soli 10 euro questa c'è la dono tenere per dopo l'ho bruciata eh un po' si Fabio non abbiamo venduto nulla ti dispiace se me ne vado magari ci riprendiamo domani qualcuno chiamerà sicuro posso? ok vocabolo anglosassone identificato geolocalizzazione effettuata pattuglia in arrivo ma porca hanno scherzato un po' su questa proposta di legge quindi hanno creato questo marchigegno che va ad ascoltare le nostre conversazioni e nel caso in cui questo dispositivo ascolti un termine inglese scatta l'allarme arriva la polizia e quindi scatta la multa fino a 100.000 euro era un video molto simpatico e speriamo veramente non arriveremo mai ad avere dei dispositivi in grado di fare questo ma soprattutto di chiamare la polizia solo per aver utilizzato un termine inglese ci auguriamo che veramente il tutto venga ridimensionato al più presto ma sicuramente così sarà però ecco era simpatico farci una puntata sopra perché come abbiamo visto anche in queste ore sui social ancora lo possiamo dire questo termine sono tantissimi contenuti che hanno scherzato su questa proposta dell'onorevole Rampelli e quindi era bello condividerlo con voi sì infatti vi ringraziamo per essere stati con noi vi ricordiamo che tutte le puntate di Radio Roma potete recuperarle sul sito radioroma.it e noi ci vediamo come ogni sera da lunedì al venerdì grazie buonasera social trend le news a portata di hashtag con Matteo Acitelli ed Esmeralda Moretti grazie a tutti